Tram fermo per mezz'ora tra le 12.40 e le 13.10 per un guasto elettrico avvenuto fuori dal centro storico in direzione della guizza a uno dei mezzi. Per sicurezza tutti i serpentoni blu della LOR vengono fermati ovunque si trovino. I conducenti non possono forzare la procedura. Nel caso di via Tiziana Spetti, dove abbiamo assistito allo stop del tram, ci sono diverse linee di autobus alternative. Invece c'è da rilevare che il servizio sostitutivo tram su autobus è passato a raccogliere i passeggeri scesi da LOR quando questo è ripreso a funzionare, mezz'ora dopo lo stop.